Ok, quindi abbiamo esplorato un po' la zona, è bello perché si può andare effettivamente, non è che è open world, quindi le mappe si può andare da una parte all'altra del mondo, come ci pare. Praticamente apriremo delle grandi aree e quelle aree le potremo esplorare, però comunque sono aree chiuse, diciamo. Mi piace perché c'è molta libertà, appunto io posso anche saltare, l'animazione che scende a volte scivola, non è che cade come un peso piombo giù, insomma ho curato abbastanza bene per ora, non è eccezionalissimo però mi soddisfa, non ho nulla da dire al contrario. Ok, ok, ok. Oh, give me a gunshot. Be ready, more coming our way. Ok, ok. Allora Grasse la buttate giù. Ok. Ok sta andata, lascia un'altra. Finiti? Perfetto Perfetto There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't... Don't touch me, mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. Is that what you asked for me? The Chantry is already... I know what they've done. Then why am I here? I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. But... I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase the chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. And that's an excuse. They're making things worse. They don't know that. This is my point. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. That won't just make it worse. Could it be worse than it is? Probably, yes. Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. Their power is their unified voice. Take that from them and you receive the time you need. So I show up, say hello, show them the mark on my hand? I honestly don't know if you've been touched by fate, or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call, as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us, or destroy us. I will go to heaven and provide Sister Liliana the names of those in the chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. It is not much, but I will do whatever I can. Corporal Vail is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. Corporal Vail is coordinating the Inquisition of 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 the Inquisition. Corporal Vail is coordinating the Inquisition of 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 un altro invece invece l'armatura armatura maglia il paladino e cosa lasciato la sera che è stato l'attentista sa meglio a te questa distrugge esamina non si può vendere ma forse il mercato quindi per mettere l'emo devo ancora salire di livello scotto c'è un sacco di cose da fare cheggio rapido non mi interessa questa cosa reclamo che cosa chiozza che cazzo ha questa roba no troppo più comodo poter saltare se non so che gg di pezzi uno doveva fare qual è il problema dimmi carne di montone per ti asci da trovare ehi sei rimasto incastrato mi scherzo mi serve qui non si può rubare nulla no c'è un punto esclamativo da qualche parte qua questo rifugiato mi sono andato 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 si è andato quando il giro si è andato non si può prendere la sprazione come le due in le lunghe il nostro figlio l'unico Hindor fa un pochino che fa che fa che è il solo che può fare ma è un pochino che è andato in le pietro Per favore, arrivi con lui e diciamo cosa è vero, senza quella pozzone lei morirà. Hai la pozzone? Invece il viaggio è rapido. Ok, facciamo che andiamo a vedere cosa dice la missione, va? Lasciamo stare tutto il resto. Tanto che questa secondaria regola la possiamo fare anche dopo, più tardi. Senza problema. Le Dwarvi non hanno fatto più di loro. La ragazza che ha fatto Bianca preferirà questo non succederebbe. La guerra è abbastanza così come è. Un'arco che si tratta così lungo e così rapidamente, con così piccola training, ogni battaglia sarebbe una massacra. Certo. Tu sei con la Inquisizione. Porto Vaila, grazie per il vostro aiuto. I Magi e Templari non credono a chi si tratta in la guerra. I rifugiati qui sono in necessità di aiuto. Se la guerra non si tratta, la colt o starvation sarà. Un'arco che si tratta. Non c'è un problema che face questi uccidi? Ci sono alcuni che sono andati non sono in strada di a sticci e alfroote. Ma che sono riusciti sono in scettura. Ma se potete trovare un esatto in Redcliffe per aiutare noi, ci sarà un'azardamento. Tu si tratta di è imparare con i uccidini del riusco? Si. Molto di loro hanno trovato città, ma si tratta di essere a casa bordo ora. O' di una città. c'è un hunter qui ha avuto un'idea c'è un'idea c'è un sacco di cose da fare coperte, cibo medicina e poi ci credo che questo gioco dura un casino di ore e farle queste secondarie completarlo tutto che a me mi piace farle queste secondarie quindi a me mi c'entripperò un casino ok via ci siamo fatti un carico di quest secondarie ok ho capito non posso salire? io non riesco a salire sul sasso ok niente niente ci sono un sacco di indicazioni che vediamo aspetto alla mappa diario no non il tiro dove va dove la mappa no questa è la visione ah la mappa ok è la testa a sinistra cambia punto navigazione ok qui c'è un punto ok ti ho lasciato un messaggio ok qui c'è un sacco di roba interessante quindi allora ok